Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura sempre l'emergenza sanitaria, il vaglio del governo, nuove restrizioni e possibili chiusure anche dopo Pasqua. Potrebbero però riaprire le scuole. Sul fronte vaccini abbiamo ascoltato ai nostri microfoni il responsabile del centro vaccinale della Santissima Trinità a Torre del Greco che fa il punto della situazione sulle vaccinazioni in corso. Ai nostri microfoni anche la voce dei cittadini di Torre del Greco preoccupati per i contagi. In chiusura la cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza volta a cancellare murales ed edicole votive in tutta Napoli. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Governo al lavoro su possibili restrizioni in Italia anche dopo la Pasqua in zona rossa. Potrebbe esserci infatti una mini proroga delle insure dei divieti per arginare la diffusione del Covid e delle sue varianti, ma con spiragli che potrebbero portare a una riapertura almeno parziale della scuola. Mentre alcune regioni, tra cui Lombardia e Lazio, sperano in una parentesi di qualche giorno in zona arancione prima della nuova chiusura di Pasqua, tra i dossier caldi sul tavolo di Mario Draghi si fa allargo quello delle prossime misure anticoronavirus da assumere. Il decreto in vigore scadrà subito dopo le vacanze pasquali, il 6 aprile. La settimana prossima si terrà una cabina di regia con le forze di maggioranza per decidere il da farsi, visto che il Premier vuole che gli italiani non vengano colti impreparati, avvisandoli per tempo debito. Il Presidente del Consiglio ha incontrato a Palazzo Chigi vertici del CTS Silvio Brusaferro e Franco Locatelli e il Ministro della Salute Roberto Speranza. Sul tavolo anche il capitolo, sentitissimo, della scuola. Un incontro preliminare con un occhio attento ai contagi e alla curva epidemiologica, con il bollettino che ieri ha segnato 551 morti e un tasso di positività del 5,9%. Nulla è ancora deciso, ma tra le ipotesi che circolano con insistenza c'è quella di una mini-proroga delle misure attualmente in vigore, allargando le maglie della stretta al capitolo scuola, ovvero consentendo il ritorno sui banchi in zona rossa almeno ai più piccoli, scuola dell'infanzia e primaria, superando il giro di vite deciso al governo Draghi con il DPCM dello scorso 2 marzo. Ma è ancora prematuro parlarne, benché ci sia un fronte ampio in maggioranza, che chiede a gran voce di riaprire i cancelli, con il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, che intanto assicura che il governo ce la sta mettendo tutta. Lavoriamo giorno e notte per poter riaprire, ha detto incontrando comuni e province. Il Ministro dell'Economia, Daniele Franco, si è detto fiducioso su un miglioramento della situazione sanitaria nel Paese dopo Pasqua. Per questo l'idea di una mini proroga, di una settimana o dieci giorni, potrebbe essere la strada da battere. È necessario parallelamente accelerare il più possibile la campagna vaccinale, con il commissario Francesco Figliuolo pronto a entrare in azione per superare le difficoltà sul territorio, con una mano tesa alle regioni che chiederanno supporto per accelerare. Una spinta che potrebbe essere fornita al nuovo vaccino per giunta monodose in arrivo, quello di Johnson & Johnson, atteso ad aprile, che potrebbe essere destinato inizialmente agli over 80 e ai più fragili. Dottor Di Iorio, campagna vaccinale a Torre del Greco, a che punto siamo con la vaccinazione degli over 80? Siamo a un buon punto per la vaccinazione. I numeri esatti non li abbiamo perché non facciamo noi le prenotazioni degli over 80, vengono direttamente dal sistema informatico. ma penso che nel giro di 7-8 giorni dovremmo poter finire la vaccinazione degli over 80. Per quanto riguarda invece la fascia degli over 70, sono iniziate le prenotazioni, sono già anche iniziate le vaccinazioni? Noi stiamo facendo gli over 80 la mattina. Di pomeriggio stiamo vaccinando prima le forze dell'ordine, la polizia, la guardia di finanza, poi i docenti, sempre col vaccino AstraZeneca. Quando avremo finito, anche con le ultime che ci stanno arrivando, Vigili del Fuoco, Capitanera di Porto e docenti, quando finiamo, e secondo me si tratta di 5-6 giorni, potremo cominciare di pomeriggio sempre con l'AstraZeneca, però con gli over 70. In questi giorni sta prendendo sempre di più piede la problematica relativa ai pazienti fragili e ai medici di famiglia. La normativa vuole che siano i medici di base, d'altronde è la logica che l'ho detta, a dire se un paziente è fragile, perché esiste una tabella precisa che codifica le patologie per cui si viene definito paziente fragile. Non è che lo decide il medico, lo decide la tabella delle patologie. Gli stop ad AstraZeneca degli scorsi giorni, come hanno influito sulla campagna vaccinale? Hanno rallentato in qualche modo? È stato un disastro, un disastro non so voluto da chi, comunque un disastro, perché il 50% dei docenti non sono venuti a vaccinarsi, terrorizzati, da favole, fandonie, dettate, non so da chi. Alla Giovanni Paolo II, dove si sta vaccinando il personale scolastico, molte persone non hanno potuto effettuare il vaccino anche per allergie o intolleranze. Il problema dell'allergia o del pericolo di uno shock anafilattico riguarda tutti i vaccini, per cui noi diciamo tutti si devono vaccinare se aderiscono, chiaramente perché la vaccinazione è un obbligatorio, però se un paziente soffre minimamente di una patologia allergica importante, deve essere vaccinato in ambiente protetto, cioè dove ci sia un anestesista e una rianimazione, cioè in ospedale. Tutti i vaccini somministrati, c'è stato qualche disagio a Torre del Greco, qualche effetto collaterale? Almeno qua, da che abbiamo cominciato, nessun tipo di effetto collaterale, nessun disagio, fortunatamente, speriamo mai. Ad oggi Torre del Greco su quante dosi quotidiane può contare? Noi qua nel nostro centro attualmente copriamo circa 200 dosi giornaliere, poi dipende se qualche giorno vengono meno insegnanti, allora possiamo scendere due a 150. Questo è il nostro range attuale, se poi contiamo con gli aiuti che ci darà l'azienda a mettere un'altra postazione per un'altra poltrona, possiamo arrivare anche a 250. E invece se vogliamo parlare, ovviamente sempre con delle probabilità, sui tempi di vaccinazione che più o meno ci si aspetta? Guardi, il numero di over 60, over 70, over 50 è enorme, penso che a Torre del Greco ci stanno da vaccinare 70.000 persone. Calano i contagi in campagna a Torre del Greco ieri, 15 positivi al Covid-19 a fronte dei 96 nuovi guariti. La città torrese, così come quelle limitrofe, ha registrato un decremento dei contagi negli ultimi giorni. Restano però, causa di preoccupazione, i decessi. Di pari passo ai miglioramenti procede anche la campagna vaccinale a Torre del Greco, dove si è ormai nell'ultima fase di vaccinazione degli over 80 prima di passare agli over 70. Abbiamo chiesto ai cittadini torresi quale fosse la loro posizione nei confronti del vaccino anti-Covid. Curva dei contagi che inizia a calare anche nella città di Torre del Greco, lei cosa ne pensa? No, io credo che le cose siano veramente ancora non del tutto normali, per cui stiamo sicuramente ancora in una situazione di emergenza. Però sta la gente che dovrebbe essere un po' più attenta nel modo come si comporta per strada, perché per la verità non vedo ancora questo atteggiamento così forte nei confronti di un problema molto serio. La città di Torre del Greco che ormai ha la terza settimana di zona rossa, ma la gente tra le strade continua ad essere ancora troppa. Ma è così, è proprio così. Io adesso in questo momento sto venendo a fare una passeggiata per Torre, perché avevo dei problemi di approvvigionamento, però vedo che è dietro la piazzetta, che è un luogo abbastanza affollato, dove non c'è nessun controllo, dove le persone sono uno sull'altro. Quindi evidentemente se non riusciamo a normalizzare anche in questo, diventa sempre più difficile uscirne fuori. Sta comunque anche continuando la campagna vaccinale, si stanno per terminare gli over 80 per poi passare agli over 70? No, questo è vero. Sotto l'aspetto organizzativo si stanno mettendo le cose per Benino, però dovrebbero certamente accelerare un po' in più. Vedo che alcune personalità politiche di Torre del Greco, come la stessa Loredana Raia, vedo che si sta effettivamente mostrando efficiente, quindi sta dando veramente una grossa mano. Credo veramente una grossa mano a Torre del Greco. Qual è il suo posizionamento nei confronti del vaccino? Quando arriverà il suo turno lo farà o meno? Ieri l'avrei fatto, immediatamente. Nel momento in cui mi verrà chiamato, non dovrò vedere che tipo di vaccino, ma l'importante è che mi faccia, perché è veramente diventata una situazione civica nei confronti dei nostri nipoti, dei nostri figli, delle nostre figlie, quindi è un dovere farlo assolutamente. La situazione è ancora incerta. Spero effettivamente che cali i decessi come pure coloro che si infettano. Stanno anche proseguendo la città di Torre del Greco i vaccini per gli over 80 e si passerà poi anche agli over 70. Lei cosa ne pensa? Mi pare giusto per vaccinare i più precari, i più deboli, cioè gli 80 anni, e che quindi cominciassero a fare più vaccini. Invece di farne 70-80 giorni, arrivare almeno a 300-400 giorni, che sarebbe un minimo accessibile. Specialmente se questi, dopo il milione di vaccini che ci hanno dato, le consegne al comune di Torre del Greco, in proporzione al numero di abitanti. Noi facciamo 85.000 persone, e quanti 80 e 70 ci stanno? Saranno 6.000, 7.000, e dare la precedenza a questi signori qua. Qual è la sua posizione nei confronti dei vaccini? Quando sarà il suo turno lo farà o meno? Sì, sicuramente. Sia AstraZeneca oppure Pfizer, perché sono stati collaudati. In Inghilterra hanno vaccinato 12 milioni con AstraZeneca e stanno a buon fine, diciamo così, nel senso che hanno 100 morti al giorno e noi ne abbiamo 550. Mi pare ovvio che si può utilizzare anche quello, o Pfizer, o AstraZeneca, o altro, perché ci vaccinano? Cultura della legalità a Napoli. Rimossi oggi un murales e un altarino. Questa mattina a Napoli l'amministrazione comunale, assistita dalle forze dell'ordine, ha provveduto alla rimozione di due manufatti abusivi. Un murales esito in via Chiaro di Luna, nel quartiere Poggio Reale, dedicato a Emanuele Enrico, ucciso il 26 aprile 2018, nei pressi della propria abitazione a colpi d'arma da fuoco, nell'ambito del conflitto tra gruppi criminali, e un altarino sito in Vico Lungo Teatro Nuovo, nel quartiere Monte Calvario, in area di interesse archeologico, dedicato a Vincenzo Masiello, ucciso il 21 settembre 2012, nei pressi della propria abitazione, in un agguato di camorra. Il programma di interventi, avviato a seguito di operazione concordata, in apposito tavolo tecnico, in ottemperanza agli esiti del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica dell'area metropolitana del 4 marzo scorso, proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, con la finalità di ripristinare il rispetto della legalità con la progressiva rimozione di manufatti o altri simboli che insistono abusivamente sulla pubblica via, fermarestando l'eventuale sussistenza di specifici reati. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione chiocciolatvcity.it o chiamando al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani. Grazie a tutti.